Il video è stato fatto per me E' un po' di più Con calma Con calma Perché se fai rumore Può essere che arriva la gente Capito? Dalla tua lato Vai 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 T'è tutto lì T'è tutto lì T'è tutto lì No vai Vodemort 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 è tornato Su auto T'è tutto l'altro Ma qua ci fanno i cristiani Vai 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 Hai visto il bel programma del momento e buco? Ah anche è bellissimo Anche zoom Si Vodemort NMc ma questo qua si è mosso? no no ok stop a me non mi so i canali sono a puttana non mi so non mi so posso uccidere? no non mi so Ho incriato uno di assi, dame merda Io avevo un bisato Così ho un fango Così ho detto che erano così, ti volevo abbracciare Calma, sono qua fede Non si apre niente Non è che gioco mal sano proprio No, non scende No? No, ancora no Non è il momento Non è il momento Non è il momento Non è il momento Ora qui devi stare attento eh Papà non mi dire questa cosa, se no mi aspetto quello che mi può succedere Oddio c'ho provata per questa porta, ma ieri c'è quella maria Ecco Ecco Ora vuoi che ti aiuti o vuoi fare tutto da solo? Faccio da solo, faccio un po' Allora non mi intrometto Ok, io non riesco C'è qua Questa è una cosa un po' Questa è una cosa un po' Non so perché ho bisogno di dare qualcuno qua Un po' Questa è una cosa un po' Questa è una cosa un po' Questa è una cosa un po' Non costruire Questa è una cosa un po' Questa è una cosa un po' L'ho Fai la tua voce E cosa? E cosa? Patria Non c'è Qui vuoi? Non sento più nessuno Direi che è il momento di andare no? Direi La cosa non fa? Comunque lui è andato a sinistra Occhino eh? Allora dobbiamo andare a riaccendere Mi è andato di qua? Mi accetto proprio che è andato di qua? No, vai da lontano, dobbiamo scendere giù Allora Allora un attivo Attiva le due pompe Devi andare a chiare le pompe Un attivo Un attivo no no no, devi giocare tu un po' ma vabbè due volte dobbiamo fare un po' no, io intanto c'ho una tranquilla sei in merda vabbè un po' ancora in metà non ce l'ho oh Dio oh Dio oh Dio gira intorno devi riattivare subito l'altro vabbè in chiara qua no, no, vabbè hai visto i ricorsi che è meglio ora devi andare a cercare e andare da quella porta dove volevo andare corri 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 attiva 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 corri corri ecco qua attiva 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 che non è che per non farci eh qua non lo so li sali li sali occhio qua? si oh corri 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 che sto venendo dove vado dove vado non lo so sta venendo eh non si può venire non c'è quella musichetta fanculo tutta me li fa male ma dove c'è qua dietro ma non si fa bene non andava al computer non 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 sedia, ma ci sta ci sta, ci sta, bene ragazzi, quindi oggi è tutto, siamo alla fine, vi salutiamo vi salutiamo, il duo Alex Bowa per Waka, anzi per Walex, vi saluta e ci vediamo al prossimo episodio di Outlast, ciao